Allora, dovremmo essere live, aspettiamo qualche secondo per vedere se andiamo live. Eccoci, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo? Sai che io non vedo? Sì, 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 io vedo, io vedo, io vedo, io. Eccoci, eccoci qua. Allora, siamo qui in diretta con la dottoressa Galletti che non ha bisogno di nessuna presentazione perché dovete conoscerla tutti, chi non la conosce verrà buttato fuori dal gruppo, cattivi, cattivi, scherzo, scherzo. La conoscete tutti e abbiamo deciso di fare questa diretta perché la dottoressa Galletti è tra i docenti del prossimo corso del metodo Apollo e ci parlerà di sonno e malattie autoimmuni, scusa, si vedo che ho appena finito di lavorare. Di sonno e malattie autoimmuni e immunità in generale. Come sapete appunto il nostro obiettivo durante i corsi è valutare tutti gli aspetti, tutte le situazioni che possono interferire o meno con la clinica e l'andamento delle patologie autoimmuni, quindi il sonno è un aspetto importante. E adesso la dottoressa Galletti ci darà qualche indicazione per condividere con tutte le professionisti che vorranno fare il corso su cosa sarà il suo intervento, il suo approfondimento. E abbiamo deciso di fare una diretta sul gruppo anche per dare qualche consiglio per chi non è un addetto appunto ai lavori però vuole approfondire questo argomento. Livia ti lascio la parola. Buonasera a tutti, oggi è la mia giornata, vi siete beccati la nota vocale su Instagram e stasera abbiamo la diretta. Allora ciao a tutti, io non vedo i vostri commenti e li legge Federica perché appunto per fare il parallelo usiamo un programma, quindi io vedo il programma, non vedo Facebook, però lei poi mi le legge le domande, quindi fate domande senza problemi. Allora io al corso del metodo Apollo parlerò di sonno e autoimmunità. Chiaramente essendo un corso per professionisti sono lezioni le nostre, ok? La mia credo di sia due o due ore, una cosa del genere. Per cui lì andremo proprio nel dettaglio, non è che spiegherò i dettagli del sonno, andremo nel dettaglio su cosa e come si collegano questi due aspetti della nostra salute. Stasera magari parliamo un pochino di più di sonno, anche perché entrare nel dettaglio di quello che succede al nostro sistema immunitario, lo dicevamo prima, diciamo offline con Federica, facciamo quattro ore di dottorato sul sonno, ok? Quindi non è che stiamo qua quattro ore, anche perché abbiamo tutti una vita e poi vi annoiate a sentire me per quattro ore. Allora, perché è importante? Allora, in realtà la cosa secondo me più interessante di tutti è che noi non sappiamo ancora esattamente il perché dormiamo. Abbiamo qualche idea, ogni tanto esce un paper che identifica un nuovo dettaglio sul perché dormiamo e se ci pensate è una cosa abbastanza strana, perché in realtà noi tutti dormiamo. E quindi è chiaro che è una delle attività fondamentali della vita e che noi ancora non siamo riusciti a capire il perché è interessantissimo e come posso dire, per una come me ci dà anche una grande fiducia nel futuro, vuol dire che salteranno fuori un sacco di cose interessanti. Come dicevo, come dicevo, è una delle cose che fanno tutti i viventi, tra l'altro, nel senso che tutti voi avete esperienza anche del fatto che anche gli animali domestici per esempio dormono, tutti gli esseri umani a qualsiasi età dormono, tutti gli animali anche non domestici dormono e questa è una cosa della quale abbiamo esperienza tutti. Quello che magari non tutti sanno è che qualcosa che non è esattamente sonno come lo intendiamo noi ma è un metabolismo diverso in un momento diverso della giornata ce l'hanno tutti gli esseri viventi perché per esempio moltissime piante chiudono i petali dei fiori di notte, altre li chiudono durante il giorno. Anche quello è una cosa che si chiama in biologia ritmo circadiano, cioè qualcosa che succede ritmicamente nelle varie giornate al secondo del periodo dell'ora del giorno. Nel 2019 è uscito un bellissimo articolo nel quale si è scoperto che ci sono anche degli organismi unicellulari che assomigliano diciamo che con un tipo di cellula stanno vicini ai batteri ma fanno la fotosintesi che hanno un ritmo circadiano, hanno due metabolismi diversi a seconda del ritmo luce buio dell'ambiente. L'altra cosa veramente molto interessante è che tutti i geni che controllano questa ritmicità sono uguali in tutti i viventi, quindi sono uguali in queste si chiamano alghe unicellulari, sono uguali nella rosa che chiude i petali di notte, nel tulipano più che la rosa, sono uguali nel cane, nell'uomo, nel canarino, nel gatto, nell'ape. E quindi sono geni altamente conservati, di nuovo si dice in biologia, vuol dire che nonostante i milioni di anni di evoluzione e di cambiamenti, quelli sono rimasti uguali e quando succede una cosa del genere in biologia significa che quei geni portano delle informazioni importantissime, cioè non potevano cambiare a causa delle mutazioni, pena il fatto che l'individuo che portava la mutazione che cambiava quel gene sarebbe morto e non avrebbe lasciato dei figli e quindi non si poteva trasmettere la mutazione. Perciò noi sappiamo che è una roba straimportante a dormire e non sappiamo ancora perché lo facciamo. Tra l'altro, in un'ottica evolutiva, evoluzionistica, se voi ci pensate, noi quando dormiamo siamo molto vulnerabili perché non siamo, diciamo, ai nostri sensi rivolti verso l'esterno, succedono delle cose particolari per cui noi non siamo più così ricettivi verso gli stimoli esterni come lo siamo nei periodi di veglia. Noi come altri animali, non tutti, per dormire dobbiamo stare sdraiati o stesi, comunque non possiamo dormire in piedi a meno di non essere appoggiati perché ho conosciuto anche gente che riusciva a dormire dietro alle porte, però doveva stare chiusa tra il muro e la porta aperta e quindi siamo molto vulnerabili. Di nuovo, evoluzionisticamente, qualcosa che si conserva, nonostante la vulnerabilità dell'organismo che la fa, vuol dire che è importantissima. Tanto che, nonostante questa enorme vulnerabilità che noi abbiamo nel sonno, non abbiamo smesso di dormire, abbiamo costruito le case. C'avevamo due strade, una era smettere di dormire e poterci difendere anche di notte, l'altra era iniziare a dormire nelle grotte, iniziare a dormire negli anfratti, fare i turni e costruire le case. Quindi, è importantissimo dormire. Lo fanno tutti, diciamo che è un'altra delle caratteristiche della vita, il dormire. Che importanza ha per la salute? È importantissimo dormire per la salute. Durante il sonno, a parte che abbiamo fasi diverse, ma oggi non riusciamo a parlare di questo, quello che succede durante il sonno è che noi abbiamo un recupero fisico, sicuramente, ma anche cognitivo ed emotivo. Durante il sonno avvengono una serie di rielaborazioni a livello dei neuroni, che sono le cellule che noi abbiamo nel cervello, in cui si associano connessioni o si dissociano, che ci servono sia per imparare che per essere emotivamente equilibrati. Quindi, appunto, si dice che ha un aspetto fondamentale a livello sia cognitivo, imparare, che emotivo. Non sbroccare al primo imprevisto. Non scoppiare a piangere ha la prima difficoltà. Nel cervello succedono un sacco di cose durante il sonno. Allora, il cervello, credo che in qualche, non mi ricordo se in qualche articolo del blog se ne pare, il cervello è separato dal resto del corpo, da un'area che si dice che è semipermeabile. Passa qualcosa, ma non passa tutto. Questa, chiamiamola barriera, fa passare cose molto piccole e non fa passare cose più grandi, e anche alcune cose piccole sì e altre no, perché il cervello deve essere protetto. È un organo importantissimo, tra l'altro è un gran prepotente, e quindi lui è straprotetto e sta là. Si diceva un tempo in medicina che il sistema immunitario non c'era nel cervello. Invece noi abbiamo delle cellule nel cervello che hanno una funzione come quella delle cellule del sistema immunitario nel sangue e nel corpo che stanno nel cervello. Una delle loro funzioni è quella di fare pulizia. Le cellule hanno un metabolismo. Tutto ciò che è un metabolismo, lo sapete, fa degli scarti. Cioè, come noi facciamo la cacca, anche le cellule hanno la loro, chiamiamo la cacca. Il cervello, come vi ho detto, è separato in qualche modo dal resto del corpo, non può passare tutto in entrata. Le cellule del cervello, i neuroni, che tra l'altro consumano un sacco di energia perché sono sempre attive, sono là che fanno cose, si agganciano, si sganciano, rilasciano, ricevono, fanno un sacco di detriti. Durante il sonno queste altre cellule che stanno nel cervello, che funzionano appunto come il sistema immunitario del cervello, puliscono, proprio fisicamente puliscono, tutta l'area della scatola cranica. Quindi già è importante perché sennò noi ci portiamo dietro dello sporco il giorno dopo. E questo sporco non è banale perché questo sporco, se resta lì, troppo, fa sì che si instauri un processo infiammatorio anche a livello dei neuroni. E questo fa sì, per esempio, che si aumenti il rischio di sviluppare delle malattie neurodegenerative perché poi i neuroni stanno in mezzo a un ambiente infiammato, si proteggono. Come si proteggono? Si proteggono depositando delle proteine nel loro intorno in modo da farsi una specie di corazza. Le due proteinopatie più note sono la malattia di Alzheimer e la malattia di Parkinson. E per farvi capire, non è che se uno dorme poco inesorabilmente divene l'Alzheimer, ok? Però se c'è la genetica favorevole e uno dorme poco, il rischio che si sviluppi è più alto. A livello del corpo, quello che succede è che se non si dorme a sufficienza, diverse assi ormonali si sballano, non restano in equilibrio. Uno di questi assi ormonali interessa l'insulina, per cui tendenzialmente chi non dorme un numero sufficiente di ore è più portato a ingrassare e non solo, negli anni a resistere al dimagrimento. E vi ricordate, qui se non ve lo ricordate vi rimando al blog del metodo Apollo, il legame che c'è tra tutte le varie malattie cutanee di cui ci occupiamo nel gruppo è l'asse dell'insulina, si è portati non solo a ingrassare di più, ma anche a mangiare di più e a mangiare anche di più cibo, si dice palattabile, vuol dire buono al sapore, ma non necessariamente sano. E un altro, si sballano anche gli assi ormonali, diciamo ormonali sessuali, sia nell'uomo che nella donna, per cui possono esserci problemi di fertilità. Si sballa l'asse importantissimo, quello che tutti conosciamo in questo gruppo, quello del cortisolo. Una molecola che noi produciamo naturalmente, che è la melatonina. La melatonina è una molecola famosissima, c'è chi dice che è un ormone, c'è chi dice che è quella. La melatonina è un potentissimo antiossidante, questo è, a livello biochimico, è un potentissimo antiossidante che noi nelle ore prima del sonno produciamo avendo un picco nel sangue. Quando uno va a vedere i grafici delle concentrazioni del sangue di melatonina e di cortisolo di una persona sana e che dorme bene, si vede che quando c'è la melatonina che sale, il cortisolo scende, e viceversa, ok? Quindi già solo questo fa capire che se io dormo poco, avrò un'influenza diretta su quell'altro asse, che è l'opposto di quello della melatonina. Sappiamo tutti che quando l'asse del cortisolo si sballa, cosa succede? Aumenta esponenzialmente lo stress organico, perché noi usiamo sempre questa parola stress, che è psicologico, è organico, ma in realtà poi il nostro corpo funziona in modo che risponde allo stesso modo sia allo stress psicologico che a quello organico. Cioè quindi il nostro corpo risponde uguale a se uno mi dà un pugno in faccia o se il fidanzato mi lascia, ok? Le molecole che partono e le conseguenze che si hanno sono le stesse. Cosa succede se si sballa l'asse del cortisolo? Succede che c'è un impatto sul sistema immunitario. L'impatto sul sistema immunitario è che in quel momento il sistema immunitario è super pronto. E lì, lo sapete, sono come dei soldatini, le cellule del sistema immunitario, loro sono tutte lì come messe a difesa del castello, pronte, armate, via. Il problema è che noi ci siamo evoluti perché questi picchi di cortisolo fossero corti. C'è il tempo di scappare dal leone che ci voleva mangiare. Viviamo in una società in cui non c'è più il leone che ci mangia, ma c'è il capo ufficio che ci stressa 8 ore al giorno, 40 ore a settimana per 30 anni. Noi non ci siamo evoluti per questi stress qua, di nuovo ci siamo evoluti per scappare dal leone. Quindi se il picco di cortisolo, invece che salire e scendere, come è? Perché il leone comunque, come posso dire, in due secondi o ci mangia o scappiamo, cioè non è che dura neanche minuti, dura un attacco di un leone. Se questo cortisolo non fa su e giù e a quel punto il sistema immunitario, lui si è armato, non c'era niente da fare, torna in uno stato di quente. Cosa fa? Resta armato a lungo. E armato a lungo vuol dire che tutte queste cellule che sono lì pronte si parlano tra di loro. Come si parlano? Mandando fuori delle molecole che dicono Allerta, 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 stiamo pronti, stiamo pronti, stiamo pronti. Ma a forza di stiamo pronti, stiamo pronti, stiamo pronti, a noi cosa succede? Che ci parte appunto una cascata infiammatoria. Il problema del cortisolo troppo alto, troppo lungo, non è neanche tanto nel periodo in cui sta troppo alto, troppo lungo. È quando scende. Cioè, se sta troppo alto, troppo lungo, nel momento in cui scende, la fase di recupero della calma del sistema immunitario, quindi della pulizia, di tutte queste molecole infiammatorie, che sono quelle che ci gonfiano, ci fanno male all'intestino, ci fanno venire l'infiammazione cutanea della psoriasi, ci fanno cadere i capelli, ci causano degli squilibri nel testosterone, negli estrogeni, nel progesterone. Non scendono come prima che il cortisolo salisse. Scendono, ma non del tutto. Restano un pochino più alte. Secondo mese di non sonno, di nuovo il cortisolo alto, cortisolo alto, cortisolo alto. Magari ci riposiamo una settimanina, riusciamo a dormire, scende un altro pochino, ma di nuovo non ritorna, non solo ai valori dell'inizio, ma neanche di quelli dopo il primo picco. E quindi piano piano si accumula uno stato di infiammazione che diventa la nostra cara e non amata infiammazione cronica silente, che è un po' il problema di tutti, ma soprattutto di chi soffre di patologie infiammatorie croniche e autoimmuni. I consigli. Ci sono degli studi che dicono che chi dorme dalle 4 alle 6 ore a notte non impara bene come chi dorme almeno 6 ore a notte, non è performante cognitivamente come chi dorme almeno 6 ore a notte, non è emotivamente stabile, è molto più infiammato, ma soprattutto non se ne accorge. Ai test di autovalutazione queste persone rispondono dicendo sono riposato come prima quando mi facevate dormire dalle 6 alle 8 ore. In realtà tutti i test fatti sul sangue, sul cuore, tutti i prelievi dimostrano che non è vero. Quindi attenzione, perché sotto le 6 ore è poco, ma non ce ne accorgiamo. Quindi qui dobbiamo essere un pochino più furbi di noi stessi e prevenirlo. Come facciamo a prevenirlo? I consigli base sono sempre quelli. Allora, la luce blu si dice che è un distruttore del sonno. Quindi cerchiamo di non usare iPhone, scusate, cellulare, tablet, computer, la T1 LED dopo le 8 di sera. Se proprio dobbiamo usarla, mettiamo quella funzione. C'è anche quel timer. Io li ho tutti impostati così perché sennò so che mi dimentico. C'è una funzione col timer alla quale dire tu dalle 8 togli la luce blu. E il device lo fa da solo. Possibilmente fare attività rilassanti la sera. Quindi possibilmente, per esempio, delle attività fisiche intense, non farle la sera. Cerchiamo di non arrabbiarci in famiglia la sera, perché anche quella è una cosa che nel nostro corpo resta alcune ore. Se è possibile, non guardiamo film troppo eccitanti e neanche leggiamo libri troppo eccitanti. Cerchiamo di dormire in una camera fresca. Per cui chi ha il riscaldamento autonomo spenga il riscaldamento di notte oppure lo abbassi e chi ce l'ha centralizzato spenga proprio il termosifone in camera. Gli oli essenziali di lavanda, per esempio, possono essere usati, magari non spalmati sulla pelle, ovviamente soffrendo di psoriasi, perché possono un pochino irritare, però possono essere nebulizzati sui cuscini. Io non vi parlo di integratori qui, perché lo sapete cosa penso. Ogni persona è diversa. Quindi vi posso dire che la melatonina è utile, sì, però bisogna saperla dare, perché quando qualcuno dice che la melatonina non fa niente, la risposta giusta è per fortuna. Perché la melatonina in media in Italia viene data malissimo, e quindi per fortuna che non fa niente, perché la melatonina data male può creare proprio delle disruzioni del sonno. Quindi quando voi dite non mi ha fatto niente, ringraziate, perché non è andata così male come potete andare. Si può usare le scolzia, però le scolzia, per esempio, ha dei potenziali effetti collaterali, non si può usare nelle donne incinte, non si può usare nei pazienti troppo anziani, è bene non usarle in chi soffre di incubi o della sindrome di paresì da incubo. Quindi, preferisco non parlarvene, perché ognuno di voi si rivolgerà a uno dei professionisti e se ha problemi di sonno verranno tagliate l'integrazione sul sonno per quella persona. Sì, le vitamine del gruppo B sono utili, anche qui dipende dalla persona, è meglio darle la sera, è meglio dare la mattina. Lo zinco può essere utile, ma anche qui quanto? Tutte le sere? Boh, i cinque idrossi triptofano, è utilissimo, ma attenzione, non si può prendere assolutamente con certe classi di farmaci. Ad alcune persone da troppa sonolenza, per cui bisogna proprio ragionare su il tempo, ma il tempo inteso, calcolato alla mezz'ora, in cui è bene darlo. Cosa fare se facciamo fatica ad addormentarci? e se nel nostro alimentazione sono previsti il riso e le patate? Li mangiamo a cena. Se possiamo, a cena, mangiamo il pesce e se possiamo, di nuovo, io, ognuno di voi ha i suoi alimenti, il suo piano, se avete tutti questi alimenti spostateli a cena, le verdure a foglia verde e gli unici due frutti su quali ci sono un po' di studi sono un tipo di ciliegia che sono le amarene, per cui ve le sconsiglio perché la amarena non trattata è qualcosa di mangiabile e la amarena è sciroppata e direi che ce le evitiamo, no? I kiwi? Però anche chi? I kiwi? Chi ha il problema dell'istamina? No. Quindi, mi raccomando, solo se avete questi alimenti nel vostro piano e la banana. Però anche qui servirebbe un pochino matura e chi ha dei problemini intestinali è meglio che sia un po' più acerba. Quindi anche di queste cose mi confronterei con chi vi conosce personalmente. Vai domande che poi porto fuori. Domanda poi ti lascio andare. Dottoressa, quanto è importante fare una valutazione clinica del cortisolo? Per il sonno? Per il sonno non ti serve. In realtà non ti serve perché? O non le serve, scusate, perché io non vedo chi... orietta, andiamo nel... orietta. No, perché non vedendo non è tanto educato. Allora, non le serve per il sonno perché in realtà per capire se c'è un problema di sonno, allora, di base basta un'anamnesi con... sono sei domande e per quello che riguarda noi, quindi io sto parlando del nutrizionista, per poi mettere in atto delle strategie non mi serve sapere se la persona ha un'ipercortisolemia, ha un esaurimento in cortisolo, ha un furto di... non mi interessa perché lì la cosa importante è il sonno. Poi è chiaro che se io ho il test salivare con il report fatto bene come lo fa Giuseppe che santo subito e me lo guardo e sta persona non mi riferisce ai problemi di sonno e io lo guardo e è impossibile che non li abbia, magari insisto sulle domande del sonno e magari per fortuna siamo ancora in una fase preliminare quindi si sta dormendo meno di sei ore ma ancora non è troppo basso e quindi insistendo dicendo ma sei ore le dorme ma tutte le sere sta dormendo subito ma è sicuro che lei non si sveglia mai ma 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 ah ogni tanto si sveglia ma a che ora si sveglia ogni tanto e tanto vi tipicamente è tra le 3 e le 5 di mattina a quel punto io come professionista poi posso mettere in atto nell'alimentazione nell'integrazione delle strategie però di base per capire se c'è un problema di sonno non ho bisogno dei livelli di cortisolo poi benvengano cioè se li fate vi dico io sono super felice ma allora poi chiedono se questa diretta verrà registrata sì verrà registrata verrà registrata perché verrà diffusa sia sul canale youtube chissà se si riesce a mettere anche sul telegram ci proveremo ok video forse non lo so ma si può metterlo metteremo anche lì e anche perché questo era solo un assaggio di quelli che sono gli approfondimenti che ci saranno al corso tanto per farvi capire come lavorano i professionisti del metodo Apollo come vengono formati e come poi vanno a valutare tutti gli aspetti della vostra vita quotidiana e quanto importante è il sonno e l'autoimmunità la domanda continua misurare il cortisolo per lo stress sì ma dovremmo parlare per altre 4 ore quindi qua dovremmo parlare di sonno abbiamo dedicato abbiamo scritto sulle linee guida dei capitoli apposta per avere queste risposte quindi lì trovate tutte le informazioni come è il cortisolo in chi soffre di psoriasi come misurarlo l'importanza del cortisolo salivare santo Giuseppe lo dico anch'io santo Giuseppe perché i report più belli io credo almeno d'Europa ma mi spingerei fare comunque una curva del cortisolo salivare dà tantissime informazioni non solo riguardo allo sonno non solo riguardo allo stress ma anche indicazioni di tanti tipi per chi fa un penso che per un nutrizionista che deve anche strutturare la giornata avere anche queste informazioni sono essenziali meraviglioso anche perché ricordiamoci una cosa che questa non cioè c'entra con tutto non solo con il sonno ok tutto tutto tendiamo ma tutti tutti tendiamo a guardare una cosa per volta ok ma perché quando si studia anche noi professionisti perché quando si studia chiaramente chi te le insegna e tu per imparare devi fare una roba per volta cioè non è che uno può si mette lì e la roba gli entra però ricordiamoci sempre che ognuno di noi è un tutt'uno quindi perché sono utili le curve del cortisolo salivare perché non è che a me è utile quel numero lì a me è utile perché quella curva mi dice quella persona ha uno squilibrio anche negli ormoni sessuali sta andando verso qualcosa di peggio cioè sì non sta malaccio ma questo valore mi dice che stiamo c'è qualcosa che si sta aggravando mi dice per esempio non lo so appunto ci sono dei problemi di sonno non ancora identificati o stanno arrivando mi dice che è molto infiammata ma mi può anche dire ha un profilo ansioso perché ricordiamoci rispondiamoci che come vi ho detto prima noi rispondiamo allo stress emotivo e allo stress fisico allo stesso modo c'è sempre il cortisolo qua quello facciamo perché siamo un tutt'uno quindi quel cortisolo alto basso alto in quel momento basso in quell'altro momento a me cosa dice? certo ovviamente ancora una volta è più sensato che il professionista lo richiede sapendo già cosa vuole andare a cercare e in base a quel risultato poi va contestualizzato interpretato e si interviene perché le informazioni sono tantissime quindi fa parte di tanti esami che si possono programmare quindi quando un professionista lo ritiene opportuno in base a quello che cerca è un esame che ci dà tante informazioni Livia ti ringrazio grazie a voi grazie tantissimo per tutto e oggi ti abbiamo sfruttato più del solito perché c'è anche un bellissimo vocale sul canale telegram con cui risposto a delle domande che ci vengono fatte molto spesso riguardo il calcio l'assorbimento di calcio anche attraverso le modalità dell'assorbimento del calcio quindi vi invito anche a andarlo a sentire questo è uno degli argomenti che verrà approfondito durante il corso che faremo a fine ottobre quindi i professionisti verranno tutti formati anche con una tematica così importante e se avete altre domande ce n'è altre però io volevamo fare una diretta breve quindi poi magari Livia ma sei sicura? sponderà un po' no ma dai aspetta mi sveglio alle 3 mi sveglio a tutti gli orari poi ogni orario eh ragazzi allora io aspettate un attimo lo sai che non guai no qui è la Linda che mi sta continuando a scrivere con l'acqua per stitici scusate ciao Linda aspettate e niente la diretta verrà salvata e ci saranno altre dirette e intanto vi ringraziamo speriamo che venga vista in tanti se avete altre domande fatele sotto la diretta che salviamo così poi con calma risponderemo risponderemo magari anche su Telegram con degli approfondimenti se ti viene voglia tu ci registri i tuoi vocali così così per il metodo Apollo e io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità ma no grazie a voi buone serate e buon weekend a tutti ciao a tutti grazie ciao ciao